benvenuti a questo nuovo incontro dei giardini pensi hanno fatto il loro tempo oggi io Antonello con la presenza del direttore dottor Giannone della biblioteca e di Paola e Maria Domenica ospitiamo Pierluigi Ortolano dell'associazione civico zero un'associazione culturale che ama definirsi in moto in movimento ci racconti qualcosa Pierluigi buonasera a tutti e grazie per l'invito sempre è sempre un onore e un piacere raccontare quello che che facciamo allora civico zero intanto si chiama in questa maniera perché è un camper abbiamo fondato questa associazione all'interno di un camper che gentilmente ci è stato regalato perché c'è tutta una storia dietro questo questo camper perché io e il mio amico Davide Pitetti eravamo siamo due appassionati di fotografia insomma e durante le nostre uscite settimanali c'era l'intenzione di di fondare un'associazione un club fotografico qualcosa insomma che promuovesse la cultura fotografica allora ci è venuto in mente di siccome viviamo in un territorio eh quello dell'Abruzzo nella nella nostra zona insomma sono piccole realtà piccoli paesini eh quindi riunire un po' tutta la le persone appassionate è sempre un po' più difficile rispetto ad una città quindi la nostra idea è stata proprio quella di eh mettere le ruote dall'associazione andare noi da loro eh eh promuovere in questo modo questa questa cultura fotografica abbiamo raccontato questa questa nostra iniziativa questa nostra intenzione ad un amico che aveva un bnb sulla costa abruzzese e lui ha pensato bene di regalarci un camper che aveva ma che non usava e e noi l'abbiamo restaurato ed è diventata un'aula dove ospitare laboratori e e in corso d'opera ci siamo affiancati alla biblioteca della nostra città la biblioteca Aldomoro la biblioteca comunale eh con la quale abbiamo iniziato anche un percorso di biblioteca ambulante quindi oltre alla fotografia si è affiancato a noi la tutto lo staff della biblioteca che con la con con i nati per leggere con la l'iniziativa nati per leggere si sono facciamo laboratori realizziamo laboratori per adulti bambini andiamo nelle scuole ovviamente ora siamo fermi perché fermo tutto tutto il mondo però insomma questa questa è stata l'idea principale da lì sono nati tanti altri progetti perché noi ci a noi piace il viaggio viaggiare quindi abbiamo fondato questa associazione più che altro eh sotto questa questa stella no la stella del viaggio del movimento e da lì insomma per ogni viaggio è un incontro e ogni incontro si sviluppano nuove conoscenze nuove amicizie e sono nati tanti altri progetti quindi voi spaziate con il camper in quale zona in quali territori allora diciamo che eh noi siamo nati nel duemilasedici eh togliendo questo anno anno e mezzo eh in questi tre anni diciamo quattro anni eh abbiamo abbiamo realizzato laboratori in nel Lazio a Roma principalmente e in Molise a Roma dove grazie a degli amici cioè un fotografo professionista Fabio Moscatelli ed un amico eh Nando Battiati eh che curano uno la parte fotografica e l'altra la parte logistica eh abbiamo sviluppato un un progetto al quale teniamo tantissimo che si chiama Periferie Viaggianti. Periferie Viaggianti è praticamente un viaggio itinerante attraverso le le periferie per raccontarla fotograficamente. Come funziona? Eh noi lanciamo il laboratorio e le persone che si iscrivono a questo laboratorio partecipano quindi all'interno del camper. Il camper è una regia mobile un un'aula multimediale dove noi possiamo trasmettere eh video slide fare la revisione dei lavori finali insomma eh è una vera e propria aula didattica eh però mobile ovviamente ci possiamo spostare anche in più punti della periferia e le persone che si iscrivono a questo laboratorio eh a loro chiediamo di raccontare la periferia eh nella maniera positiva perché raccontarla nella maniera negativa e ci pensano già i media e quindi e quindi insomma quello il nostro è proprio quello. Valorizzate insomma le peculiarità più creative e belle insomma di della periferia. Sì di resistenza di resilienza perché poi eh ecco ci avviciniamo a delle persone che eh noi diciamo sempre che venti persone che delinquono non fanno una periferia di venti trentamila persone è comunque una città nella città e e in queste città ci sono tante attività tante persone che ogni giorno si spendono per affinché le la vada cresca la periferia e cresca tutto il tessuto sociale. È anche chiaro eh Pierluigi mi sembra che spaziare dall'Abruzzo alla capitale quindi attorno a Roma eh si abbia una fotografia in questo senso della periferia ben diversa e e e come dire di varia qualità di varia di varia forma no? Sì perché mh allora prima di tutto per noi per me Davide ad altri amici che poi nel frattempo si sono avvicinate dall'associazione che fanno parte del nostro territorio che è ben diverso dal territorio eh di una periferia di una periferia di una grande città come Roma eh prima cosa per noi è stato un grande accrescimento perché partire alle tre e mezza del mattino e arrivare a Roma alle otto per iniziare perché dovete sapere che il camper è dell'ottantotto quindi non è un camper appena sfornato dalle linee di produzione quindi a tutti i suoi limiti come come tutti vecchietti insomma e quindi partire trovarsi immersi in una periferia completamente una realtà completamente diversa dalla nostra per noi è stato un grande accrescimento poi trovare veramente tante persone perché con con Fabio Moscatelli Nando che ci dà davvero un grande aiuto nella nella logistica del sul posto e questo è per noi è un eh ci teniamo tanto non so se si sente ma ci teniamo davvero tanto no no si 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 sente si sente assolutamente credo che sia il il vostro progetto in casa mi ha procurato dei problemi eh sì perché appena ho raccontato a mia moglie che voi facevate questo splendido eh progetto itinerante eh subito eh le è venuto in mente ma è bellissimo bisogna fare più cose del genere partiamo facciamo e che non è assolutamente facile perché poi eh voi siete una associazione ma avete la vostra vita i vostri lavori immagini quindi bisogna poi come dire far tornare eh l'impegno dell'associazione con quella che è la vita di tutti i giorni sì sia io che l'altro ragazzo ma così come gli altri soci che si sono avvicinati facciamo tutto un altro lavoro per fortuna eh anche se ci piacerebbe insomma eh abbiamo ricevuto inviti da Bologna da Trieste da Milano però per il momento è è difficile perché già Roma due giorni perché andiamo il sabato e la domenica significa prendere un giorno di ferie e stare via lontano da casa per per tre giorni quindi eh e comunque bisogna bisogna coniugare un sacco di cose perché questa è una passione ovviamente ma non bisogna mai tralasciare quella che è la vita privata e la famiglia e tutto quello che che c'è dietro insomma. Infatti come dire che ci sia una grande passione che nasce un po' anche da eh come dire alla vostra la vostra i vostri interessi i vostri anche comune visioni che avete dell'osservare la quotidianità che vi circonda e anche del trovare delle maniere dei modi per catturarla e e farla nuova eh direi che il progetto Randstad eh racchiuda sia un po' il cuore un po' di questa vostro incontro e tutto nasce in una notte durante un turno di lavoro? Sì io lavoro di notte in un'azienda a metalmeccanica e io lo chiamo il pensatoio perché è lì che penso e mi vengono le idee me le appunto e insomma Civico Zero è nato un po' così poi ovviamente con Davide parlandone l'abbiamo sviluppato è nato in un altro modo e abbiamo la stessa cosa il progetto che hai appena menzionato Randstad 1969 perché sfogliavo mi piace allora di solito eh guardo nei mercatini fisici quando vado nelle città europee vado in viaggio insomma vado sempre alla ricerca di qualche mercatino ovviamente quando non si può ci sono tante altre tanti altri modi che internet offre e in questo caso ho trovato una casa d'asta d'aste che propone molti oggetti validi tra cui eh mi sono imbattuto in questa in questa scatola misteriosa questa scatola misteriosa che ehm l'annuncio diceva contenere centoquarantuno rullini scattati eh finir degli anni sessanta in Olanda e mai sviluppati ed era sviluppato un solo rullino per mostrare al potenziale acquirente il contenuto eh del dei rullini insomma io ho visto queste foto ma poi ho fatto subito delle associazioni di idee perché i rullini erano le scatoline insomma erano tutte della stessa ditta dell'agfa eh erano solo di due formati diversi chi sa c'è no c'è il formato trentacinque millimetri e il centoventi millimetri quindi ho fatto delle associazioni ho pensato subito che chi aveva conservato una scatola eh per così tanto tempo eh cinquant'anni eh aveva scattato tutte quelle fotografie le aveva riposte eh doveva essere o un professionista o un grande appassionato per l'epoca eh avere a disposizione tanto materiale da acquistare ma così come avere a disposizione due fotocamere almeno visto il formato diverso ehm eh era sicuramente un fotografo o professionista o un fotografo evoluto eh che cosa ho fatto? E ho chiesto agli amici che girano intorno a noi di darmi una mano a qualora la la cifra raggiungesse cifre per noi troppo troppo elevate. Invece questo non è avvenuto perché vi dico che non ha partecipato nessuno all'asta quindi siamo stati fortunati. È stata un'asta solitaria. Come? È stata un'asta solitaria sei riuscito. No due tre due tre utenti ma che poi alla fine non hanno rilanciato alla fine dell'asta quindi ce la siamo aggiudicata molto facilmente. E quindi è un prezzo ragionevole. E quindi voi avevate già in mente eh di cosa fare di questi centoquarantuno rullini? Allora eh sinceramente no come dicevo prima io ho fatto un'associazione mia personale no? Ho detto qui ci sono centoquarantuno rullini tutti uguali. Eh nel momento in cui sono arrivati eh ho pensato ho pensato subito a come muoverci insomma ne abbiamo parlato con gli altri ragazzi. Ho pensato che potevamo o sviluppare tutto perché la cosa fondamentale è che eh serviva un professionista per sviluppare questi questi rulli perché ovviamente sono rulli eh erano dentro queste queste bobine da cinquant'anni quindi eh dovevamo capire come agire come lavorarle. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata chiamare il nostro stampatore Franco Glieca che eh vive a Chieti quindi nel un po' lontano da noi però è il nostro punto di riferimento per per tutta la fotografia che facciamo. Lo abbiamo invitato a gli abbiamo chiesto insomma se si sentiva di di fare questo lavoro per noi. Lui è accettato ovviamente di buon grado e io non dimenticherò mai le sue parole perché mi dice chi ama la fotografia prima di ogni cosa questo eh è un dovere prima di un piacere perché queste fotografie vanno restituite eh alle persone agli occhi insomma chi chi ama la fotografia sa che cosa di cosa sto parlando. Poi in realtà voi avete fatto diventare queste foto un racconto. Allora poi vabbè nel frattempo che cosa ho pensato? Ho pensato insieme agli altri di 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 non sviluppare tutto insieme ma di coinvolgere un po' tutti le persone, il territorio, Roma visto che andavamo a Roma. Quindi abbiamo iniziato a sviluppare dieci rulline alla volta e a mostrare questo risultato. Le prime la prima foto che Franco ci mandò fu quella delle tre bambine sulla bicicletta e da lì abbiamo capito che dovevamo continuare perché se quello era il tenore delle fotografie abbiamo capito insomma che dietro c'era una mano molto valida e quindi abbiamo deciso di di fare in questa maniera e abbiamo deciso di eh mostrare queste immagini a ehm ai nostri amici e alle persone che che ci avrebbero raggiunto insomma perché è iniziato il tour di Randstad eh man mano che andavamo a fare i nostri laboratori abbiamo creato delle mostre per proprio per farle per farla con noi per iniziare a far conoscere il progetto. Eh ci abbiamo impiegato tre anni a sviluppare tutto. Eh da lì è nato un blog il blog è stato aggiornato man mano eh fino ad arrivare a fine duemiladiciannove quando sempre un altro incontro durante una un evento con Civico Zero ci ha portato a conoscere la la scrittrice Analisa Giuliani che ci ha dato l'idea del concorso letterario quindi con lei abbiamo sviluppato questo questa idea praticamente ehm che poi tra l'altro ha vinto ha visto ha visto vincitrice una vostra concittadina signora Rossana Pavone e abbiamo sviluppato questo questo progetto quindi noi abbiamo consegnato all'iscrizione ehm una fotografia dalla quale le persone il partecipante doveva trarre spunto con un breve racconto massimo di diecimila battute quindi una fotografia in parole della fotografia inviata. Scusate Luigi, diversa per tutti quanti o tutti quanti la stessa? No no diversa diversa le fotografie erano venti in concorso e gli scritti sono stati circa sessanta con quaranta racconti poi giunti a a noi per per la valutazione. Eh eh a me ho avuto la fortuna Pierluigi di eh conoscere eh un grande gallerista nonché fotografo cioè il creatore della prima galleria d'arte fotografica lui diceva in Europa ma era era abbastanza estrionico sicuramente è stata la prima galleria d'arte fotografica in Italia a Milano ed era Lanfranco Colombo eh personaggio eh importantissimo per quanto riguarda la storia della fotografia in Italia tanto per darti l'idea l'idea della galleria d'arte fotografica a Milano gli la diede Cartier-Bresson sì la cosa affascinante quando lui parlava e mi arriva nel mio negozio di musica a a raccontarmi le sue storie e che parlava di questi personaggi come io posso parlare appunto del mio vicino di casa e questo se lui eh diceva che eh la fotografia per lui era un modo sicuro di leggere le persone e quindi la vita eh come ti ritrovi in questa in questa frase un modo sicuro per leggere le persone guarda io penso che eh il signor Colombo abbia perfettamente ragione anche perché chi fa fotografia sa che è uno spaccato di ogni vita eh è un frammento di ogni vita quindi eh sì mi ritrovo perfettamente in queste parole senti eh ho visto nel nostro dal vostro sito eh che è sempre molto molto stimolante con tutte queste iniziative che esiste anche un'officina educativa sì allora officina educativa e noi siamo partner di un di questo progetto praticamente abbiamo aderito a a come si dice alla a prendere parte alla realizzazione di questo bando abbiamo poi insieme alle altre associazioni del territorio vinto questo bando eh che è finanziato è un fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in pratica che ha l'obiettivo di contrastare eh la povertà educativa e il disagio giovanile eh di tutta la comunità del territorio ehm l'efficina educativa praticamente eh non è altro che l'insieme di tante realtà associative eh la capofila e musica in crescendo sempre di San Salvo che è una grande orchestra giovanile eh che si occupa di realizzare i laboratori di di musica per i nostri ragazzi i nostri ragazzi io intendo i ragazzi del della città di San Salvo che hanno eh dagli undici e diciassette anni quindi parliamo degli adolescenti dove noi eh proponiamo a loro questo questi laboratori quindi c'è la musica c'è il teatro c'è la fotografia c'è la street art per quanto riguarda Civico Zero eh noi siamo per i laboratori di di street art e fotografia fotografia l'abbiamo chiamata street photography perché abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi eh al di fuori delle quattro mura ehm quindi il pomeriggio eh dopo la lezione insomma si è sempre usciti a fare delle delle prove delle degli scatti capire come funzionano eh come funziona questo mondo la stessa cosa con la street art perché ovviamente si lavora si lavora fuori ebbene cosa abbiamo fatto eh abbiamo invitato due due docenti professionisti per la fotografia c'è stato Alessandro Pace nel primo anno perché questo durerà tre anni noi abbiamo realizzato il primo anno adesso siamo fermi per questa situazione eh quindi il primo anno c'è stato Alessandro Pace per la fotografia e Marco Di Prisco per la street art eh i docenti hanno una volta individuati i ragazzi che volevano partecipare eh li hanno istruiti a ai due progetti di laboratorio per la fotografia abbiamo pensato e l'abbiamo chiamata eh ritratti in strada ritratti in strada perché eh i ragazzi dovevano imparare innanzitutto a fare un un ritratto ad una persona ehm e poi eh comunicare con loro spiegare loro che cosa significa essere ritratti quale l'implicazione legale di mostrare il proprio viso pubblicamente in una fotografia eh quella di essere esposti insomma c'è tutto tutto quello che gira intorno a ad un ritratto fotografico e ci siamo l'ultima l'ultima fase del progetto è stata proprio quella di realizzare eh i le fotografie i ritratti in centro quindi abbiamo allestito un set fotografico con un fondale neutro e e i ragazzi chiedevano ai passanti eh del centro storico della nostra città eh di essere fotografati spiegando tutto quello che era stato il loro percorso dopo questo questo lavoro eh per restituire alla città questo questo progetto invece di chiuderlo nelle quattro mura come diciamo sempre del di una sala espositiva abbiamo pensato di realizzare dei manifesti pubblicitari quindi grandi grandi manifesti da mettere in giro per la città quindi affissioni pubbliche eh con il volto delle persone ritratte questo è per quanto riguarda la il progetto di officina educativa per la fotografia ho una domanda che eh faccio a te ma allo stesso modo faccio anche a tutti gli amici che sono in questo momento collegati eh potrei sbagliarmi eh così a grandi linee come decadi però la fotografia fino al metà degli anni ottanta ha avuto un grande successo anche grazie alle macchine istantanee eh poi un momento di crisi diciamo da metà degli anni ottanta fino ai primi forse fino alla fine degli anni novanta adesso praticamente tutti quanti fotografano su un cellulare con un cellulare con diciamo che l'immagine il è diventata una moda sia per quello che riguarda l'autoscatto noi chiamiamo autoscatto una volta cioè il selfie sia per quello che riguarda la fotografia di qualsiasi evento di qualsiasi eh momento eh mi viene in mente che forse trent'anni fa ci piaceva l'idea di andare a vedere un concerto un festival e portarci dietro la fotografia di quel momento eh poi adesso non è sinceramente non ne possiamo più perché eh diventa un'invasione eh non solo la propria privacy ma un'invasione di immagini eh dove a volte diventa difficile scegliere lì dove c'è la qualità no in mezzo alla massa di immagini eh come ci come ci come ci mettiamo davanti a questa a questa sovraesposizione non non di luci ma di immagini rispondo io prima direi allora io non sono dell'opinione che ovviamente c'è una sovrapproduzione questo sicuramente però non sono un estremista da questo punto di vista perché ogni tempo ha i suoi difetti e i suoi pregi quello che dicevi eh degli anni ottanta settanta ecco io immagino ritorno un attimo a Randstad no? Quando si guardano il ruoto di Randstad di fine anni settanta eh dell'Olanda poi se si se si va a guardare eh io ho fatto una ricerca su quante persone vivevano perché se voi vedete le foto di Randstad ma così come tante altre foto del passato vedete una certa pulizia nelle immagini no? Eh perché questo? Perché eravamo due miliardi gli abitanti del mondo non c'era tutta questa sovrappopolazione o eh tre macchine per ogni famiglia eh eravamo molto ma molto di meno oggi siamo arrivati quasi ad otto miliardi e se provi a fare una foto in città e e comunque eh non troveremo mai quella la la pulizia insomma la 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 semplicità che possiamo ritrovare in quelle foto lì. Per quanto riguarda la sovrapproduzione eh io eh riporto sempre l'esempio eh della prima macchina da un dollaro della Kodak eh il motto diceva eh tu scatta il resto ci pensiamo noi. Anche lì i fotografi si arrabbiarono chi lo faceva di professione no? Eh perché c'era ancora il fotografo con la lastra fotografica la grande e l'ingombrante macchina fotografica per fare ritratti eh quindi quel tempo lì ha vissuto quell'esperienza lì. La stessa cosa poi è arrivata con le Polaroid, le istantanee di cui parlavi eh che tra l'altro venivano usate dagli artisti per prendere appunti eh quello che si fa oggi col cellulare per quanto riguarda quella fetta di di persone che la utilizza in quel modo. Anch'io la utilizzo perché non non c'è più tempo. Io non riesco più ad uscire con una macchina fotografica ma ho sempre uno smartphone in tasca quindi intanto prendo appunti poi se riesco ci torno però per me ecco per chi vive la fotografia come la vivo io, come la vivono i miei amici, altri colleghi eh in modo più veloce e comodo. Ovviamente eh poi l'abuso è in tutte le situazioni eh eh ovviamente la rete ha ha moltiplicato in modo esponenziale questo questo problema di sovrapproduzione. Maria Angela? Sì condivido in parte quello che diceva Pierluigi in effetti se pensiamo anche comunque nell'ottocento perché poi la sfida sostanzialmente in prima istanza della fotografia è con l'arte, con la rappresentazione artistica e quindi quando si afferma la fotografia per gli artisti diventa effettivamente uno strumento invece che far stare la modella per giorni in posa scattavano la foto, avevano modo di studiare i diversi punti di vista per lo scultore e se non ricordo male ci sono foto ad esempio di Rodin che fotografa la modella, lo studia, quadretta e ingrandisce, studia i vari punti di vista insomma più soddisfacenti. Devo dire, io parlo personalmente come ho vissuto l'evoluzione fotografica e il rapporto con l'immagine che si cattura con la fotografia e visto che sono partita dalla fase analogica sono stata compulsiva un po' quasi da subito nel senso quando ho avuto il primo stipendio ho comprato una macchina reflex e ho fatto questo viaggio con l'università in Sicilia ricordo che feci una almeno una decina di rullini però di di diapositive perché costavano meno per lo sviluppo quindi ho ancora queste cassette di diapositive che guardo con molta gioia e piacere e lì era la fame veramente di registrare con la macchina ciò che vedevo con gli occhi e che mi entusiasmava. Era forse più pensato sicuramente lo scatto nonostante fosse pensato undici rullini me li sono sparati in Sicilia con il digitale devo dire che forse il fotografo meno meno e al contempo mi manca un po' la fisicità della della fotografia perché rimane un qualcosa di evanescente che poi perdi anche facilmente. Direttore? Io volentierissimo intanto ringrazio ancora Pierluigi per questo incontro per questa testimonianza mi piacerebbe trascinare nella discussione un po' tutte e tutti perché come già avevo accennato quando ci siamo conosciuti a Pierluigi mi colpiva il messaggio totalmente contemporaneo direi di questo momento di difficoltà per noi tutti della policentricità delle periferie ovvero partire con i giovani soprattutto far capire ai giovani che non c'è un centro del mondo ma ci sono dei mondi che possiamo noi trasformare in fulcri in punti di snodo credo che tra l'altro in una situazione come quella pandemica siano clamorosamente eh contemporanei. Eh era una delle cose che più mi ha sorpreso piacevolmente di questa esperienza molto di questa grande esperienza sfidante direi che questa associazione porta porta avanti per far capire che non esiste potenzialmente un luogo diseredato ma perché c'è un forte contributo individuale a dare una appoggiare pesantemente il proprio equilibrio e quindi a condizionarne anche il percepito altrui. Quindi questo secondo me è un elemento di grande impatto possibile di contributo individuale alla società. Adesso esagero. Però è una di quelle cose da cui si parte secondo me per poter capire quale possa essere anche il proprio ruolo individuale e quindi credo che sia una di quelle di quei modi in cui si fa formazione agli individui e alle ai gruppi di individui più forte. L'ho messaggio pesante lo so eh però volentieri il vostro contributo sull'argomento. Il rapporto con la fotografia direttore? Eh beh la fotografia certo che di per sé è una delle prime possibili l'immagine della fotografia è una testimonianza potenzialmente con cioè sempre contemporanea ma anche in grado di dare una scala di eh tempi che eh che passi che evolvono e che passano che possono servire a chi fa a questo tipo di formazione di esperienza la possibilità davvero di vedere evolvere anche il proprio contesto la propria realtà. E anche la prima forma di arte che incontriamo fino da 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 bambini no? E quindi è è la prima che che realmente conosciamo e riconosciamo. e ritornando al discorso sulle sulle periferie e sulla fascia d'età eh che lo che vado a sottolineare proprio quello che diceva Pierluigi non è soltanto eh l'ambientazione in questo senso la periferia con tutto quello che giustamente tu direttore sottolineali e quanto anche la fascia di età perché quella fascia di età lì undici diciassette è quella più problematica lo era ancora prima del covid lo è di più adesso con il covid e credo anche che eh in maniera molto intelligente loro abbiano unito la street art alla fotografia perché se la fotografia tolto quello che significa poi eh i rivali social dove ci finiscono invece poi le fotografie non artistiche diciamo eh la la parte intelligente è stata quella di abbinarla alla street che invece è qualcosa di eh generazionale e quindi usare uno strumento più antico come la fotografia e metterla insieme a qualcosa di assolutamente moderno contemporaneo come la street sì questo indubbiamente aggiungerei anche che c'è stato anche un desiderio di creare quasi una una rete sociale perché dal momento in cui si porta a fare eh la fotografia degli abitanti di un contesto di un paese poi di esporre le foto nel contesto nel centro urbano quindi le persone si sentono partecipi di questa operazione e diventano anche protagonisti insieme ai novelli fotografi insomma e così anche nella street art e poi anche questo discorso di portare di portarsi fisicamente e nelle periferia di avvicinarsi a contesti i marginali i semplicemente per posizione ma non per appunto o contenuti ma anche per la street art abbiamo cercato di tenere il centro eh e di coinvolgere le persone perché quello che i ragazzi hanno realizzato e e colorare è stato colorare le scale in cemento armato del nuovo anfiteatro comunale quindi ogni qualvolta c'è una un evento o un qualche situazione in cui queste scale vengono riempite vengono sono seduti sui colori che i ragazzi hanno realizzato in accordo con il con il sindaco immagino sì 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 in accordo il sindaco ecco c'è il sindaco l'amministrazione comunale comunque partner del progetto con perché include questo progetto include anche i genitori quindi c'è è cittadinanza attiva più che altro quindi tutto è tutto l'insieme che fa il progetto maria domenica sì devo dire eh io ascolto con con molto piacere ci sono veramente tantissime cose su cui eh sto riflettendo ad esempio per luigi mi viene in mente no il tema della della costruzione della memoria cioè riflettendo sulla fotografia che eh cattura un un attimo un istante eh che attraversa il tempo raggiunge un utente da un'altra parte del del mondo ecco eh quanto questa un'idea anche un po' eh forza con quello che diceva prima Antonello che dicevi prima giustamente anche tu ossia la sovrapproduzione di immagini in cui viviamo cioè non è che stiamo un po' perdendo il senso della realizzazione di una foto che catturi un momento un'idea una sensazione e che magari poi eh comprendendo quello che vuol dire il ritratto ci ricolleghiamo con il significato profondo di eh quel momento di quell'azione di eh quella raffigurazione e e poi ecco assieme all'idea della memoria della memoria allora l'idea del racconto queste fotografie in qualche modo vivono come giustamente diceva anche Mariangela una forma di eh come dire eh racconto che eh nuovamente viene rivitalizzato eh e però possiamo tornare indietro a fare il percorso inverso quindi partire da un racconto è realizzare delle immagini a supporto magari anche in questo momento in cui viviamo confinati nelle nostre case per via della della pandemia forse potremmo provare a fare il percorso all'inverso partendo dal racconto e poi arrivando all'immagine non so sono delle degli spunti che sui quali che volevo condividere con voi intanto vi racconto un piccolo aneddoto proprio sulla memoria perché io quando dopo dopo un anno e mezzo dall'inizio dello sviluppo dei negativi insomma eh nel frattempo ho fatto delle grandi ricerche aiutato da da internet da da google quindi tutti tutti gli elementi contenuti in una fotografia per quanto riguarda l'anstad dicono tutti gli elementi contenuti in una fotografia mi hanno aiutato a trovare di individuare a circoscrivere una zona quindi quella memoria di cui parlava Maria Domenica io l'ho vissuta sulla mia pelle quando mi sono recato poi in Olanda e ho cercato alcuni luoghi eh ritratti nelle fotografie quando sono sceso dal taxi mi sono trovato di fronte ad alcuni di questi luoghi io l'ho vissuta come io non conoscevo l'Olanda l'ho conosciuto attraverso queste foto in bianco in nero quindi eh quando sono sceso dal taxi ho visto l'Olanda a colori e ho avuto quasi un mancamento perché mi sono trovato a a vivere quell'esperienza eh come se fossi un bambino tornato dopo 50 anni eh nella sua terra e vedere ed avere soltanto questi ricordi questa memoria un po' sbiadita un po' in bianco e nero ricordi del passato quindi eh ed era cambiato pochissimo perché poi come sapete nel nord Europa e cambiano pochissimo non 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 è come noi buttano a terra tutto e ricostruiscono quindi le case cioè è tutto come nelle fotografie a parte qualcosa che si è aggiunto Paola giusto? Paola sì eccomi scusatemi ma avevo delle persone quindi mi sono assentata un attimo non ho sentito le ultime cose che vi siete detti ma per le fotografie eh io mh non so fotografare ma ovviamente lavoro molto con le fotografie perché con il mio lavoro come diceva prima Mariangela eh è un mezzo di è un mezzo per immortalare determinati forme colori soprattutto i colori perché quello che riproduco io eh fa parte della natura e quindi si deteriora in maniera abbastanza veloce e quindi io devo assolutamente immortalare quello che 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 devo riprendere eh quello che mi mi fa pensare a quello a una riflessione del della digitale oggi e di questa eh di questo uso eh illimitato della fotografia ne faccio anch'io perché io devo oggi ho fotografato tutti i fiori del mio giardino perché avevo bisogno di di vederli e di fotografarli però non si perde secondo me in questo momento eh si perde un pochino la la capacità di guardare e di vedere in questa eh frenesia assoluta di fotografare però nello stesso tempo è un secondo me è un mezzo eh che se eh spiegato se utilizzato bene eh può riprendere proprio eh può risolvere e e e ovviare a questo a questo grosso problema di distrazione e e di bassa qualità a volte anche perché invece di goderci non so un tramonto stiamo tutti di a fotografarlo ma poi non ce lo godiamo perché poi lo vogliamo portare a casa e però appunto eh spiegandolo e con il vostro lavoro con il lavoro che fate che lo trovo veramente eh emozionante lo lo conosco oggi eh può essere appunto un un modo per eh fare il percorso inverso anziché essere distratti eh quindi di non saper vedere ma di saper solo guardare attraverso appunto il vostro lavoro secondo me c'è la possibilità di sensibilizzare e oltre che a guardare e vedere quello che si fotografa e e quindi eh trovo che sia il vostro lavoro veramente eccezionale bravo grazie ma infatti è quello che come ho detto nella prima nella prima fase insomma da quando siamo partiti eh abbiamo fondato l'associazione proprio sulla sulla promozione della cultura fotografica perché è necessario imparare a a guardare e saper osservare quello che diceva prima Maria Domenica di partire eh all'inverso dal racconto per fare una fotografia eh questo è quello che si può fare si può fare tranquillamente perché riguarda i progetti fotografici perché quello che che può essere un racconto messo e raccontato poi fotograficamente eh è la stessa cosa che abbiamo fatto noi con le fotografie perché partire da una da una foto e poi eh produrre un racconto ed inverso è possibile quello che ho fatto io per esempio privatamente eh proprio per questo per questo motivo è coinvolgere la classe quando mia figlia era agli elementari coinvolgere la classe la maestra con un progetto di fotografia analogica sempre con i ritratti eh delle persone del centro storico perché intanto era più semplice per i per i ragazzini però io ho consegnato per i ragazzi per i bambini all'epoca un solo rullino è una macchina fotografica e quindi ho spiegato loro che dovevano imparare innanzitutto ad osservare e avevano una sola possibilità quindi questa possibilità perché loro sono nativi digitali e quindi lo scatto compulsivo è veramente dietro la la porta eh è alla loro portata insomma per loro non finisce mai eh la memoria per loro è e questo non possiamo farci nulla quindi ho cercato di spiegarle spiegare e infatti il risultato è stato eh che avevo avuto trentasei ritratti di persone perfette mentre gli altri mentre uno scattava in in analogico agli altri ho consegnato chi aveva il telefonino chi aveva una macchina digitale hanno fatto mille scatti in una giornata e non se ne salva uno invece quello per il quale doveva essere eh adoperata molta concentrazione e è riuscito perfettamente poi tra l'altro l'ho fatto stampare a loro in camera oscura quindi hanno avuto anche questa esperienza materica che è sempre fondamentale perché perché l'ho capito perché al primo cui ho chiesto se sapeva cosa fosse una pellicola mi ha detto che era la pellicola per il cellulare quindi era era necessario poi immagino che per loro si è stato magico no eh infatti io non dimenticherò mai quello che che sentivo in camera oscura insieme alla maestra perché nessuno si spiegava come mai una carta nell'acqua o nel liquido eh da lì spuntasse fuori così una fotografia qualcosa di magico così come era magico per me quando ero piccolo però tutto questo ci insegna che siamo sempre pronti a stupirci e come dire eh ma visto e considerato che Associazione Zero è una realtà in movimento e visto che Genova è una periferia noi vorremmo come dire eh invitarvi a venire a trovarci appena sarà possibile con una mostra e con un intervento una un lavoro sulla sulla nostra realtà territoriale il nostro centro storico esatto i vari laboratori il centro storico ma anche altri quartieri si presterebbero molto bene alle vostre iniziative e come dire come diceva Antonello sono di estrema intelligenza al contempo sensibilità come diceva Paola quindi siete riusciti ad unire e come dire la la testa il cuore mi viene da dire e educando al al bello o le persone e questo mi sembra una cosa preziosa preziosa dalla forte valenza civica anche questo ci fa davvero piacere perché era il nostro intento da sempre quello eh fondante dell'associazione quindi se ci siamo riusciti e riusciamo a trasmettere questo ci fa veramente piacere e vi ringrazio dimmi no no dico volevo ringraziare per l'invito intanto sperando che si possa fare al più presto eh sicuramente già Genova non è una periferia ma non è neanche dietro l'angolo ma troveremo un modo sicuro ma tanto solo in periferia possiamo farvi fare questa cosa perché il camper lo possiamo ehm come dire posteggiare solo in periferia perché il centro non sarebbe possibile immagino ho visitato Genova quindi conosco un po' le viuzze sono un po' difficili ma noi troveremo spazio per il vostro camper sicuramente sono sicuro bene allora noi ti salutiamo ti ringraziamo per questo incontro Pierluigi è stato un vero piacere incontrarti e come dire ascoltare il racconto di questa associazione che ha preso vita dal duemila e sedici come dicevi e sta portando avanti i progetti di estremi interessi ci teniamo aggiornati sui vari progetti che state portando avanti e quindi sicuramente ci terremo in contatto e l'invito è veramente valido e se non sarà possibile farlo in presenza ci organizzeremo per fare qualcosa a distanza nuovamente e se non scappate tanta agenda ci vogliamo venire quindi io ringrazio ringrazio tutti voi per aver partecipato generosamente a questo questo nostro incontro quindi maria domenica paola il direttore che consente la realizzazione di queste iniziative e antonello che è un compagno veramente straordinario di avventura e ci vediamo quindi alla prossima e seguite i giardini pensili grazie